Rischia di investire una ciclista facendo retromarcia con l'auto in via Ogni Santi. La donna in bici, un'ivoriana di 24 anni, residente a Bassano, cade. L'automobilista bassanese 52enne scende dal mezzo e apriti cielo. Tra le due inizia una pioggia torrenziale di insulti di ogni tipo. La 52enne tira fuori il cellulare, inizia a fare foto, cosa che fa inviperire ancora più la giovane ivoriana che le strappa di mano il telefono e scappa. Arrivano a volante e di lì a poco si scopre che la ciclista si era nel frattempo recata dai carabinieri per riconsegnare il cellulare. A questo punto, convinte anche da poliziotti e militari, le due si parlano e pace fatta.